Una giornata di sport, inclusione e disabilità a barra. L'evento Social Basking è stato promosso dal Centro Ester, dal Social Center Village e dal Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità della Campania. Una mattinata dedicata all'inclusione e allo sport, con la partecipazione di istituzioni, enti del terzo settore ed altre realtà del mondo del sociale. I ragazzi hanno disputato una partita di Basking, sport di squadra ispirato al basket, giocato da ragazzi con disabilità e normodotati, tutti insieme. A seguire c'è stato l'incontro presso il Teatro Pompeo Cent'anni, con numerosi interventi che hanno toccato con mano le diverse esperienze e visioni sulla tematica. Lo sport ha un valore importante perché provoca benessere da un punto di vista psicofisico per le persone con disabilità, ma è anche fattore di inclusione. Si sono celebrate da qualche settimana le Paralimpiedi di Parigi e la Campania ha avuto un grandissimo successo. E anche a livello regionale ci impegneremo per cercare di far finanziare una legge che sostenga la pratica sportiva per le persone con disabilità. Credo che oggi mettere al centro le tematiche come sport, inclusione e disabilità, non solo perché oggi la politica nazionale e internazionale si incontra a Napoli, ma soprattutto per dare quel profilo di correttezza anche istituzionale che dovrebbe attivare dei processi da condividere non solo con le istituzioni ma con la parte sana, con la parte civile, per poter iniziare anche a ragionare insieme su quelle che sono delle proposte operative e da mettere in campo. Il G7 a me si dedica più alla guerra. Speriamo noi di dedicarci non solo alla pace ma alle condizioni di miglior vita, di dignità, di benessere territoriale e fisico di tanti, comprese le persone con disabilità, che meritano uno spazio urbano più idoneo, più adeguato per il quale reclamiamo investimenti.